Dopo l'approvazione della legge 16 anche il Presidente Bonacini era concorde sul fatto che andassero spenti gli inceneritori. Gli spegneremo tutti, chiuderemo gli inceneritori, potremo spegnere inceneritori, spegneremo qualche inceneritore per poi arrivare al piano e non spegnere neanche uno. A questo punto noi non potremo fare molto per porre dei miglioramenti al piano e fare in modo che ci sia un cambio di tendenza, un cambio di rotta. L'unica cosa che possiamo fare è dire un no, solo un no, che è quello di dire no agli inceneritori con una semplice protesta civile. Niente di questo. Mi dispiace ma dovete uscire. Uscite. O la ripiegate o uscite immediatamente. La seduta è sospesa. La seduta è sospesa. E prego gli uscieri di accompagnare. Prego, accompagnate i consiglieri fuori. I consiglieri questori possono intervenire anche loro. E anche i consiglieri questori, eh. Sono truccoli e poti, possono accompagnare i loro colleghi fuori.